Allora, Angelo Milano, allenatore di questa edilferri inarrestabile, qual è il vostro segreto? Niente, cerchiamo di lavorare giorno per giorno, allenamento per allenamento, non pensiamo mai alla partita successiva, ma sempre a quella che viene prima di tutti. Lavoriamo costantemente su ogni cosa, su ogni schema tattico, non lasciamo nulla al caso. Infatti è una settimana che lavoriamo sulla sensation in tutti i suoi particolari. Anzi, voglio dire che tenetevi ai buoni mister Ragone perché è una grande persona, un grande allenatore. Al di là della partita di oggi, mi dispiace il mister Ragone, noi siamo... Allora, oggi tanta grinta da parte vostra, esperienza, comunque una squadra ben assestata in campo. Che partita è stata per voi? Una partita che poteva dire tanto, poteva dire nulla. Oggi abbiamo dimostrato sul campo di meritare questo campionato. Penso che non ce ne voglia nessuno, penso che lo stiamo dimostrando partita dopo partita. Spero alla fine di vincere il campionato con maggiori punti possibili. Vorrei fare il record di vittoria, se ci riesco. Ma speriamo bene. Voi avete una marcia in più, questo palazzetto sempre pieno di gente, anche la panchina. Ho detto prima, a cosa ho letto, che è il migliore in campo, che avete una squadra esperta, forse un po' carente di giovani. Quanto questo il prossimo anno pensate che vi penalizzerà? Può essere un nostro limite, il fattore dei giovani. Infatti con la società stiamo cercando di individuare alcuni giovani, tra cui il vostro ragazzo Simari, che è molto interessante. Vedremo, vedremo. Stiamo cercando di guardarci un po' in giro con questi ragazzi, di puntare molto di più sui giovani. Speriamo bene. Ok, grazie, mister. Complimenti. Grazie.